Sì, voi ho già cinto pezzi di macchi, no tipo 1200 pezzi di macchi, voi hanno preso un video. C'è un video. No, c'è un video. Anche io. Io ce l'ho fatta, io ce l'ho fatta, fare una foto con la faccia normale. Voi, vai. L'hai incornicio, l'hai regalato di stile. Mi va. Ho 1200 pezzi di macchi, poi ne ho preso, ne ho preso di ogni, veramente di ogni. E tipo, dopo il poco le ho mangiate fuori. Abbiamo chiuso un'ora prima perché ci perdono troppo.